La nostra iniziativa è quella di dire di no a questo progetto fatto dall'amministrazione comunale il quale diciamo di no all'abbattimento degli alberi per creare parcheggi qui a Cesenatico sul Viale Torino. Alcuni albergatori hanno chiesto questo posto macchina. Noi diciamo che i posti macchina per gli alberghi ce ne sono abbastanza, il problema sono i pendolari. I pendolari possono parcheggiare anche vicino al campo sportivo. Capisco le vostre motivazioni, le ascoltate, le fate. Voi non volete che apprezziamo gli alberi, ne prendiamo atto. In ogni caso è un percorso legittimo, abbiamo tutti i pareri, fitosanitari, provinciali, regionali. Però sta di fatto che voi quella cosa che non la volete. Qui però ci sono 26 alberi che se non li piantiamo questa mattina lì nel giardino muoiono. E la responsabilità è la vostra. Se stanno solo 7, 26, 26 mesi con gli altri. Siccome io non voglio questo, perché non voglio che quei 26 alberi muoiano, vi chiedo al limite della collaborazione in questo momento di sospendere la manifestazione. Io non faccio per gli alberi stamattina. Questa è una protesta alla vostra delibera, spontanea, dei cittadini che ho qui. Non è la protesta del singolo. Io non posso naturalmente riassumere il loro pensiero adesso, però quello che mi sento di dire adesso è che noi la collaborazione riguardo a ciò che hai detto, che questi frassini che ci sono sul camion, che rischiano di morire se non vengono piantati subito, ve la possiamo dare. A patto, a patto, a patto, che voi sospendete la delibera su Viale Torino. Io questo patto non posso dirselo perché ho tutti i pareri sanitari e qui non c'è niente. Allora non se ne fa niente. Allora bravi, bravi, non vinceremo niente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.